Il 15 febbraio del 2018 i miei genitori hanno perso la vita in un incidente stradale. Non ci hanno mai spiegato cosa sia successo ed è uno dei motivi per cui siamo sempre stati molto sospettosi, come se si cercasse di proteggere la persona che aveva provocato l'incidente. Appena si è una notizia del genere si è poco lucidi. Capivamo di aver bisogno di un supporto, in quel caso era Dacchetti in particolare che ci ha seguito nella pratica, quindi ci siamo subito sentiti accolti. Il fatto è che c'era la fiducia da subito.